Ciao a tutti ragazzi, io sono PoggyJ e oggi siamo in un nuovo video, siamo su FaiMethod Freddys2. Allora voi dite, ma PoggyJ ha fatto FaiMethod Freddys2? No, l'ha fatto mia sorella e quindi volevo farlo anch'io, quindi mettiamo continuo. So già che soltanto in FaiMethod Freddys2 morirò di paura, perché negli altri non è molto pauroso. Ma se il volume è, perché io non muoio, è veramente un infarto. No, dai Foxy, non è vero. Ma ciao Foxy, non è vero. Ce ne vuoi un po' per andare? Ce ne vai? Tenti, andare, dalle, balle. Ma metto un po' per questo. Ma sei ancora lì? Ma te ne vuoi andare? Dai che tra un po' e punto va. Aspetta, 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 aspetta. Ah, se ne è andato. Beh, non puoi di mimme. Uffa. Siamo ancora l'uno di notte, non vorrei dire. Ma... Ok, a me Angle se ne è andata. So se è il problema di Foxy. Che ancora un po' rompisca. Ah, se ne è andato. O se ne è andato o è venuto un altro. O che è se ne è andato. Andiamo a controllare gli old che non si stanno muovendo. I toy sono ancora qua. Oh mio dio, oh mio dio, oh mio dio. Basta, ballon boy deve andare. Ballon boy deve stare mica. Aspetta, non dimmi che mi sto davanti. No. No. Ballon boy. Io non guardo, ragazzi, fate voi. Credete di andare? C'è perfino Puppet, perfetto. Mamma mia. Uffa Foxy. Ma perché proprio quando c'è il Puppet che deve rompere il... Devi venire tu? Io voglio essere ammassato da Puppet. Non da te che sei un coglione. Uffa, si comincia. Uffa, siamo già a 4 minuti ora. Non abbiamo fatto niente. Siamo già a 4 minuti. Uff. Uff. C'è il post... Mangle qua a destra. Non si vede molto bene, però tutto a destra c'è Mangle. Basta di Mangle, anche se voi non lo vedete. Basta! Non è ancora iniziata la notte. Già Foxy sta là! Basta di Mangle. 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 Mangle. Mod posição a studiare da questo rumore. No, ma no. Foxy è Old Bonnie. Mamma mia. Foxy che sta facendo sempre la nonchina e Old Bonnie che si avvicina. Mamma non cale. Mamma mia. Ave tutti le palle, e poi c'è Foxy Ha, sotto che c'è wassi fin, andato o Foxy o Bonnie. وkind. Foxy Cicassi ancora qua pure freddi I Toi stanno qua belli beati Mango deve sempre Mango se ne giro un sola sempre Oh mio dio che Tu prima eri qua come faccio ad arrivare qua Non lo sapremo mai Tanto siamo già arrivati a 6 minuti Sono le due di notte Ma che Mamma mia Quello che rompe più le scatole Secondo Palomboy e terzo Puppet Mamma mia però Foxy No no c'è Mango là Ma io non so che fare Mango sta là e Foxy sta là Se mi metto la maschera Foxy mi attacca Però se Se invece spara Fresh Foxy se mi ammazza Mango Credo che adesso mi farà un bello jumpscare Mango Anche se non sono molto sicuro Oh mio che paura Old Bonnie da dove Che canazzo si è spuntato Mi ti vuoi stare un po' zitto Balloon Boy Che succede che succede che succede Mi la posso levare la maschera Mi è passata sopra in me Mango Da dove è spuntata quella old chica Dove Cosa è succede in questa maledetta notte Basta Mentre Nangle Adesso te ne vai un po' a farti friggere Per favore Maledetta Madonna Perché Non mi ricordo l'ultima volta che mi sono incazzato nero con Planet at Freddy's Perché nel 4 ero tutto spaventato e impaurito Visto che siamo a 8 minuti credo di concludere quel video Spero che vi sia piaciuto il video E alla prossima No ma che cosa sto dicendo Prima di finire Io volevo dire Quel video di non farò più video E' già uscito tardi Perché vi accorgevate che non avevo fatto video nella settimana Allora ragazzi Credo che inizierò a fare video venerdì, sabato e domenica Perché non riuscivo a gestire il fatto di ogni giorno E quindi Credo Credo Che li farò venerdì, sabato e domenica Credo Per ora La settimana prossima deciderò Questa settimana Li farò soltanto sabato Invece Dalla prossima settimana Vi aggiornerò e vi dirò Quanti video farò alla settimana Comunque ragazzi Spero che vi sia piaciuto il video E alla prossima